Bilancio e documenti finanziari Stati generali della cultura Sette giorni in consiglio Nel corso della settimana si sono svolte le riunioni della prima commissione per le relazioni degli assessori e per l'esame del bilancio e della finanziaria 2013. La commissione cultura ha svolto le audizioni dei rappresentanti delle associazioni e degli enti culturali piemontesi. In evidenza Il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo ha coordinato la conferenza dei capi gruppo riunita per definire il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea sull'esame del bilancio regionale e dei documenti finanziari. I lavori sul bilancio legge finanziaria sono ripresi dopo diciamo uno stop dovuto al fatto dell'incertezza in particolare dei saldi e trasferimenti dello Stato. Stanno lavorando molto bene in commissione. Sono fiducioso quindi che si possa rispettare i tempi anche perché l'obiettivo è quello di dotare la regione Piemonte di una legge di bilancio e di una legge finanziaria entro il termine dell'esercizio provvisorio che sono il prossimo 30 aprile. Focus Nelle varie riunioni svolte in settimana la prima commissione, dopo la relazione degli assessori per le singole materie, ha proseguito l'esame delle norme e degli emendamenti collegati al bilancio di previsione e alla finanziaria 2013. Il provvedimento prevede risorse per circa 11,3 miliardi di euro di cui circa 10,2 miliardi di fondi regionali. I lavori della commissione bilancio stanno procedendo a ritmo serrato anche per cercare di recuperare, visto che siamo nel corso del mese di aprile, il ritardo che il codesta giunta e il codesta maggioranza ha consolidato nel corso del 2013. Credo che nell'ambito della settimana finale del mese di aprile i documenti verranno rilasciati al Consiglio onde procedere pur tardivamente all'approvazione della finanziaria 2013 e del bilancio conseguente. Ma è come quest'anno indispensabile, data la situazione di grande difficoltà che la regione Piemonte ha nel suo complesso. Siamo a un passaggio molto delicato della legislatura regionale. La giunta regionale ha presentato un documento sul bilancio 2013 dal nostro punto di vista inaccettabile. Aumentano la pressione fiscale nei confronti dei cittadini con l'addizione alle IRPEF, riducono il diritto della mobilità con forti riduzioni sul TPL o sulle politiche sociali e su molti altri settori. Io credo che questo documento, che è certamente molto impegnativo, rappresenta il passaggio più delicato e più difficile di questa amministrazione regionale nei confronti della comunità piemontese. La terza commissione ha eletto Angiolino Mastrullo, PDL, come nuovo presidente, in sostituzione del dimissionario Gianluca Vignale, designato assessore. Anche la commissione speciale di indagine conoscitiva sulla sanità piemontese e sugli appalti pubblici ha rinnovato la presidenza, eleggendo Davide Gariglio, PD, come vicepresidente di minoranza, in sostituzione di Stefano Lepri, eletto al Senato della Repubblica. Innanzitutto ringrazio i colleghi che con una larghissima maggioranza, quasi la totalità, ha voluto farmi l'onore di presiedere la commissione terza e dopo questo dovremo iniziare a lavorare. Ci aspetta molto e ci aspetta fondamentalmente la legge sulla caccia, a cui ovviamente dovremo dare prima o poi una risposta. Io sono animato dalle buone condizioni e faremo in modo che la commissione lavori prestissimo. La sesta commissione, presieduta da Michele Marinello, dopo l'audizione dei rappresentanti del mondo culturale in Piemonte, ha deciso di convocare gli stati generali della cultura. Sarà un momento di confronto tra le centinaia di realtà degli enti che in Piemonte si occupano di spettacolo, teatro, danza, cinema, musica, biblioteche, musei e le istituzioni pubbliche, per fare il punto sulla situazione in cui si trovano a lavorare oggi più di 37.000 persone nella nostra regione. L'importantissima audizione della commissione cultura di oggi, nella quale sono stati ricevuti i rappresentanti delle principali associazioni culturali del Piemonte, ha ribadito che si faranno gli stati generali della cultura. Questa proposta della commissione e delle stesse associazioni è stata condivisa unitariamente, insieme all'impegno di difendere il bilancio della cultura sui livelli dell'anno scorso. Questa mattina abbiamo ascoltato in commissione cultura le preoccupazioni dei coordinamenti delle associazioni, serie preoccupazioni perché la cultura è un comparto che risente la crisi ancora di più, per i due aspetti, uno per quello produttivo e l'altro per quello sociale, della crescita interiore, diciamo, del paese e delle persone. In breve. L'intelligenza alimentare, ovvero la consapevolezza di quel che mangiamo, è il ciclo di incontri in calendario tra aprile e maggio alla Biblioteca della Regione Piemonte. Realizzata dal Consiglio regionale, in collaborazione con il settore Relazioni con il Pubblico e tutela dei cittadini e dei consumatori della Giunta, propone quattro conferenze all'insegna del consumo consapevole. Domenica 26 e lunedì 27 maggio si vota per il rinnovo di 52 amministrazioni comunali del Piemonte. Due di essi, Ivere e Eurbassano, hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e potrebbero andare al ballottaggio. Nel nuovo comune di Mappano, invece, le elezioni si svolgono per la prima volta. I comuni al voto sono sei in provincia di Alessandria, tre rispettivamente per Asti e Biella, dieci in provincia di Cuneo, due per Novara, undici per Torino, quattro per il verbano Cuseossola e tredici per quella di Vercelli. Organizzato dalla consulta delle elette, si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Il dolore ha bisogno di cultura, Piemonte, Italia, il dolore delle donne. È un fenomeno che coinvolge corpo, mente e relazioni, inducendo un peggioramento di vita per chi ne soffre, oltre a un notevole impatto sociale ed economico. Non basta una legge per alleviare il dolore, ma è necessario un cambiamento culturale, non essendo esclusivamente un semplice fenomeno biologico, ma un vero problema esistenziale. A Palazzo Lascaris è cerimonia di premiazione dei vincitori della 32esima edizione del progetto di storia contemporanea. Il progetto 2013, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha coinvolto 668 studenti, 21 ragazzi a titolo individuale e 647, suddivisi in 111 gruppi, di 47 istituti superiori piemontesi. Gli studenti vincitori parteciperanno ai viaggi di studio, con meta in alcuni significativi luoghi della memoria in Italia e in Europa. Noi del Liceo Cavalieri di Verbania abbiamo deciso di realizzare un progetto per il recupero del campo di fossoli, perché ci ha permesso di coniugare il passato e quindi il ricordo della tragedia che ha segnato profondamente la storia italiana con il presente e il futuro e quindi con la consapevolezza che noi, giovani diciottenni, possiamo fare tanto per ricordare questa tragedia e per rendere migliore il nostro futuro. Io ho fatto un lavoro sulla cittadinanza, ho sfruttato il terzo titolo offerto dal Consiglio regionale in questo concorso e ho cercato di esprimere al meglio la mia situazione come cittadino italiano di seconda generazione di origine straniere e ho fatto un video per spiegare il punto di vista di un ragazzo marocchino nato qua. Il primo gruppo di studenti vincitori del concorso, dal 19 al 21 aprile, visita la risiera di San Sabba a Trieste e le Foi Becarsiche in Slovenia. Sono 57 gli studenti provenienti da 10 istituti superiori del Piemonte. Io mi sento un po' una veterana di questo concorso, perché sono anni che partecipo con i miei studenti e ne sono molto orgogliosa. In modo particolare quest'anno ritengo sia stata una cosa molto bella e molto importante che il Consiglio regionale del Piemonte abbia mantenuto questa iniziativa visto che siamo in clima di spending review, come siamo soliti definirlo. Fino al 22 maggio, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio, tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. L'allestimento propone una serie di oggetti appartenenti al museo che illustrano le caratteristiche di lavorazione degli ombrelli e un gran numero di cartoline e stampe d'epoca che raccontano per immagini, storia, simboli e curiosità sul mondo del parasole e dell'ombrello dalla fine dell'Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento. Questa esposizione organizzata dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone riguarda il Museo dell'Ombrello e del Parasole di Gignese e ospita una serie di oggetti provenienti da questo museo unico in Italia che racconta la storia di questo straordinario oggetto e una parte della collezione privata di Francesco Maglia che ha contribuito all'esposizione con una serie di caricature, quadri e altre illustrazioni riguardanti il tema dell'ombrello. Wojciech Ponikiewski, ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, in visita a Torino. È stato ricevuto a Palazzo Laskaris dal presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo. All'incontro hanno partecipato il primo consigliere dell'Ufficio politico-economico dell'Ambasciata, Agnieszka Oppen, e il consul onorario di Polonia a Torino, Ulrico Leis. L'amministrazione di Macugnaga ha conferito il titolo di cittadino onorario a Massimiliano Blardone, nato a Pallanzeno nel VCO, pluridecorato atleta italiano, che proprio a Macugnaga ha iniziato la carriera di sciatore. Un riconoscimento speciale è stato consegnato a Max Blardone, dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Valerio Cattaneo, per la sua straordinaria attività agonistica e per gli eccezionali risultati conseguiti che hanno reso e rendono orgogliosa la comunità piemontese. A Santena, nel Castello Cavour, fino al 30 aprile, è aperta la mostra fotografica dalla Carrozza all'aereo, i mezzi di locomozione dal 1860 al 1960. Sempre fino al 30 aprile, le vignette satiriche sull'immagine femminile sono esposte a Somma Riva Bosco, in provincia di Cuneo, nella mostra La donna immaginata, l'immagine della donna. A Reano, provincia di Torino, si può visitare il 21 aprile la mostra sui Monti Europei dedicati a San Michele Arcangelo. Opere dei maestri Francesco Casorati, Mauro Chessa, Pino Chiezzi, Lea Germati e Giacomo Soffiantino, esposte per la rassegna alle Radici della Democrazia, testimonianze d'arte, a Palazzo Lascaris fino al 15 maggio. Autore dei sottotitoli e Giacomo Soffiantino